In Italia circa 40 persone si ammalano ogni giorno di linfoma e circa 15.000 sono i nuovi casi all'anno. Si tratta di un gruppo di malattie neoplastiche tra le più frequenti e in Abruzzo se ne registrano ogni anno circa 400 nuovi casi. Dal 2004, il 15 settembre, si celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'infoma, promossa dalla Linfoma Coalition, una rete mondiale che fornisce supporto ai pazienti con linfoma. Ci sono campanelli d'allarme che non vanno assolutamente sottovalutati, spiega il dottore Francesco Angrilli, consulente scientifico del gruppo abruzzese Linfomi Ente Terzo Settore, organizzazione di volontariato, un'associazione a sostegno delle persone che si ammalano di linfoma in Abruzzo. I linfomi nel 50% dei casi si presentano con dei sintomi tipici che sono un dimagrimento superiore al 10% del peso corporeo negli ultimi 4-6 mesi, la presenza di febbre che non può essere spiegata con una causa infettiva, la presenza di tumefazioni linfonodali quando sono presenti in superficie, in alcuni casi vi può essere un prurito incoercibile, ovviamente non attribuibile a cause dermatologiche o ad altre malattie di pertinenza internistica. In casi particolari vi può essere un sintomo molto molto raro ma che è fortemente indicativo che è il dolore all'assunzione di sostanze alcoliche, qualsiasi sostanza alcolica, vino, birra, superalcolici scatenano dei dolori nelle sedi del corpo in cui la malattia si sta sviluppando. Il dottor Angrilli ricorda che l'associazione darà il suo contributo allo sviluppo dell'informazione della sensibilizzazione su queste patologie attraverso una linea telefonica dedicata 351 6519748 attiva dalle ore 16 alle 19.